Buongiorno, vi vorrei chiedere, per favore, se potete evitare di scrivere a tutte le chiare che seguo su Instagram, cercando di capire qual è quella giusta, anche perché quella giusta non la seguo su Instagram, proprio perché volevo preservarla da questa cosa, ma non immaginavo che si sarebbe in questo modo ripercosso su tutte le altre, quindi nulla, vi chiedo, capisco la curiosità, però sappiate che è una cosa così preziosa che non la metterò mai su piazza, quindi non saprete mai chi è probabilmente, perché non mi va di metterla in un contesto che non è il suo, lei fa tutt'altro nella vita, non ha questa smania di essere conosciuta, quindi nulla, io non pensavo avrebbe avuto questo successo il pezzo, sono contentissima di questo, però, per favore, vi chiedo, rispettate questa cosa, ecco, io bene lo stesso. Chissà che pensi se vedi un mio video, chissà che pensi se vedi un mio video, se un giorno vero e sentirmi dal vivo, baby, baby, te lo zioro mai, mi diceva mica che...